Si alza il sipario sulla dodicesima edizione del Settembre Culturale. La rassegna di quest'anno dedicata alla tradizione della presenza di San Francesco d'Assisi ad Agropoli prenderà il via domani, sabato 31 agosto, alle ore 20. Nello splendido scenario del Castello Angioino Aragonese di Agropoli, lo scrittore, giornalista e sceneggiatore Diego De Silva presenterà al pubblico il suo Superficie. Diego De Silva fa ridere perché parla dell'assurda quotidianità di ognuno con Superficie, l'autore di terapia di coppia per amanti, supera se stesso compiendo un'azione semplicissima ma che poteva venire in mente solo a De Silva e al suo straordinario modo di vedere il mondo per quello che è. Lo scrittore mette insieme tutti quei luoghi comuni, quelle assurdità che si dicono e che in fondo non significano niente perché non estrapolano la realtà ma la vedono appunto in superficie. Qui sono messe una a fianco all'altra e sarà difficile per chi legge non ritrovarsi in almeno una cinquantina di queste frasi. L'appuntamento dunque è domani sera, sabato 31 agosto alle ore 20 presso il castello Angioino Aragonese di Agropoli.